Didacta Firenze 2024, quest'anno Argo c'è con il 90% delle concessionarie che operano all'interno del nostro territorio nazionale, abbiamo delle novità numerose, un'app completamente nuova che si chiama Unica, dedicata a tutto il personale della scuola, abbiamo una nuova release dell'applicazione di Rigo, pensata e studiata per dirigenti e DSGA, siamo con nuovi programmi immigrati su cloud, quindi emolumenti, il software per l'orario scolastico, piuttosto che tutta l'area patrimonio e ci siamo con l'innovativa piattaforma e-learning Campus Argo insieme al nostro direttore editoriale ed alcuni autori. Vi aspettiamo!